In che senso i testimoni di Geova si distinguono? Molti rimangono stupiti quando scoprono la differenza che c'è tra i testimoni di Geova e tutte le altre religioni che asseriscono di seguire Cristo. Ecco alcuni aspetti in cui si distinguono. Organizzazione Non hanno una classe clericale. Chi svolge l'opera pastorale ed insegnamento o missionaria, non riceve retribuzione. Nei loro luoghi di culto, noti come sale del regno, non viene richiesta la decima né si fanno collette. Tutte le loro attività sono sostenute da offerte anonime. Non fanno politica. Promuovono la pace e non partecipano alle guerre. In tutto il mondo sono uniti dalla stessa fede e dalle stesse credenze basate sulla Bibbia. Non si lasciano dividere da differenze sociali, etniche, razziali ed economiche. Non hanno legami con altre denominazioni religiose né cattoliche né ortodosse né protestanti. Dottrina Credono in un solo vero Dio, il cui nome è Geova. Non credono che Gesù Cristo sia Dio onnipotente, né credono nella dottrina della Trinità. Seguono gli insegnamenti di Gesù e lo onorano quale figlio di Dio. Non venerano la croce, né usano immagini nel culto. Non credono in un inferno di fuoco destinato ad accogliere i malvagi alla loro morte. Credono che Dio ricompenserà gli esseri umani che gli ubbidiscono con la vita eterna perfetta su una terra paradisiaca. I testimoni di Geova ritengono di essere riusciti a ripristinare il cristianesimo del primo secolo, quello seguito dagli apostoli di Gesù.